Sono due gli automobilisti multati per diverse violazioni al codice della strada e denunciati alla procura della Repubblica di Caltanissetta martedì scorso dalla Polizia di Stato. Il primo per avere violato l'obbligo della quarantena domiciliare prevista in caso di positività al Covid. La seconda per avere guidato sotto l'influenza dell'alcol. Così quando i poliziotti della sezione volante durante un posto di controllo in viale con te testa secca hanno fermato un'auto con tre persone a bordo durante il controllo dei documenti hanno scoperto che il conducente aveva violato la quarantena domiciliare. L'uomo solo dieci giorni prima era risultato positivo al Covid-19 ed avrebbe dovuto rispettare il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Sempre nella stessa sera, poco dopo la mezzanotte, in via Salemi l'equipaggio di una volante di zona è intervenuto per un incidente stradale. Una Fiat Punto che proveniva da via Filippo Turati era andata a sbattere contro il muro della rotatoria. Gli agenti hanno accertato la dinamica e condotto le due donne ferite che erano all'interno del mezzo al pronto soccorso Sant'Elia. Proprio lo conducente ha raccontato ai poliziotti di avere perso il controllo dell'auto. La donna sarebbe poi risultata positiva all'alcol test.